buongiorno a tutti benvenuti finalmente in questo nuovo video come avete già detto dal titolo ho preso la nuova collezione di chiara ferragni per nespresso sono qui adesso al carosello che dove lavoro mio caro amico che lavora da nespresso che me l'ha presa nella ordinata e sono venuto a ritirarla poi dopo a casa con belissa vedremo bene come funziona il tutto sono tornato a casa c'è qua la rompita che già sta sbirciando nelle mie cose vuoi vederla facciamo l'unboxing apriamo partiamo da quello piccolino che è l'aria cino che praticamente sarebbe quello per scaldare il latte e montarlo strano brecchi brecchi stare registrando il tuo culo davanti alla telecamera non ci deve essere anche figo ed ecco qua stra bello qua dentro ci sono delle sue cose sui aggeggini questo è il manuale delle istruzioni qua c'è il coperchio bene brecchi è bellissima guarda come è interessato apriamo la macchina poi lo montiamo e lo proviamo anche io voglio di farmi subito un bel cappuccino io me lo sono appena bevuta ho sfigato mi si vede anche la faccia vabbè apriamo il pezzo grosso ci sono dentro anche le capsule come noi perché ci sono varie dimissioni e quindi le fanno provare qua ci sono le varie istruzioni poi oppa questo cos'è? è per il caffè sotto ecco bello e questa è la macchinetta ah ma questo qua è tipo ma è di scorta? per me va giù è per mettere il latte giù all'altezza diversa perché devi infilarlo perché se hai la tazza lunga la metti lungo se hai la tazza corta la metti corta e dove si infila? è giusto così sono vari tutti ho la tazzina ho il bicchiere più lungo ho un cera più lungo poi la cosa stra figa di questa qua in confronto alla macchina che avevamo noi prima è che ha il serbratore stragrosso così non devo riempirlo 500 volte ma voglio vedere se ci sta è molto più grande di quella che abbiamo eh andiamo a provarla ed eccola qua qua c'è l'espresso per Chiara Ferragni, il serbatoio brecchi non devi leccarla come diceva Melis davanti c'è questo che è per l'altezza in base alla tazza perché fa caffè lunghi più corti e questo è il rompino brecchi, ciao brecchi unboxing fatto e ora direi di provarla perché sono super 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 curioso visto che devo fare anche la merenda mi faccio un bel cappuccione di quello tipo che ha fatto Chiara Ferragni con tutta la schiuma adesso Valeria che c'è qua in aiuto abbiamo messo l'acqua e ora deve partire la pulizia quindi c'è una tazza 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 eh buttala fuori ecco 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 double espresso da 80 ml, gran lungo da 150 ml, il 2,30 ml e il 4,14 ml, quasi mezzo litro di caffè ah però ecco sono 12 capsule che ci hanno dato in dotazione con la macchinetta ne proveremo ciclo di pulizia finito abbiamo una tazza trasparente si voglio fare quello lungo quello che fa con il latte e come si fa? eh bisogna mettere il latte e il caffè sono il tutorial se volete sfruttare di di terra lei ha messo il latte a scaldare qui dentro ah prima poi ha messo la tazza qui e ha fatto partire il caffè ah ok e io voglio fare quello però con il latte vegetale voglio vedere cosa esce io ho il latte io ho il latte di cocco e mandorla vediamo se riusciamo a fare il cappuccino di Chiara Ferragni con il latte di cocco e mandorla ecco metà è uscito direi così forse anche un po' di più, dai 40 ml è pochissimo dai così questo dentro ole si mette il coperchietto lo farò freddo in teoria c'è rischio di schiacciare due secondi quindi uno due è freddo perché è blu dovrebbe essere freddo ecco che monta e nel frattempo mettiamo già la capsula nella macchinetta quindi non vuoi vedere la schiuma che si fa non vuoi vedere la schiuma dai ma c'è una sigla sopra le capsule o sono in fila? no no questa è quella piccola? si questa è la migliore secondo me ok mettiamo la migliore la capsula l'ho messa qui qua si chiude è un po' strana la chiusura si fa e poi si fa così ma nel frattempo si sta montando secondo me poco perché è freddo si ferma lui ecco siamo tutti qua in ansia un po' di eliminatore strano strano e ora ti stessa gira e abbiamo anche un po' di zucchero guarda che bella schiumina come piace a te bellissimo guarda che bella schiuma eccolo quella proviamo com'è c'è una bella schiuma si super schiumoso anche il caffè è molto schiumoso buono un bel cappuccino mmm finalmente guarda anni che lo volevo io questo diciamo che chiara fare è stato uno spunto per farselo comprare lo vendevano comunque che senza marchiato però che bello però questo è il più bello bravo cioè brava chiara marketing ma scusa ma goditelo un attimo sono godito è buonissimo cammello comunque direi che il video lo concludiamo domani quando provare tu e fatti il tuo cappuccino direi di sì vedremo con l'altro latte come viene brava con il latte vero e poi lo faccio caldo è infatti arrivato il momento dell'assaggio buono forse troppo caffè per i miei gusti però devo ancora abituare cioè devo capire quando stoppare perché sapete che io mi sembro pochissimo caffè per farmi caffè e latte e la schiuma è meno rispetto a quella di Riccardo quindi forse il latte vegetale piuttosto che lo Zimil andava meglio però è comodissimo mettere il latte con tutta la schiumina mmm top terzo giorno di prove oggi voglio provare a farmi un latte macchiato con il caffè al caramello che Melissa ha comprato ieri questa è la capsula questa in teoria è da 80 ml quindi verrà un po' più lungo lo farò ovviamente con il latte di cocco e mandala come ho fatto l'altro giorno perché a me il latte non male mi fa venire male al pancino ho aperto la macchina metto la capsula tac chiudo e vai lo faccio col bicchiere così si vede l'effetto sto mettendo il latte credo che farò tipo metà bicchiere ora lo metto qua e vediamo cosa esce vedete che va a mischiarsi con il latte è più lungo perché sono 80 ml figo l'effetto un caffè estetico anche gocce di tic per dolcificare un peccato anche mischiarlo mi piace un sacco come è uscito guarda l'effetto ho fatto comunque quasi una cremina nonostante io non abbia montato il latte buono perché c'è proprio la cremina sopra del caffè io direi di chiudere qui questo video abbiamo fatto già due o tre teste sono soddisfatto della macchinetta ovviamente questa macchinetta esiste anche senza diciamo la collezione di Chiara però secondo me l'ha fatta molto carina cioè alla fine se vedete dà un bel tocco alla cucina col marmo anche l'areuccino è molto figo e quindi ci stava veramente a prenderla fatemi sapere se magari anche voi l'avete comprata perché magari siete fan di Chiara noi non siamo super fan sfegatati però apprezziamo il suo lavoro e perché non supportarla alla fine non avevamo da tempo cambiare la macchinetta del caffè che era sempre un espresso ma Melissa voleva comunque qualcosa per farsi dei cappuccini o quant'altro e quindi abbiamo preso la parabalza e abbiamo preso questa macchinetta spero che questo video vi è piaciuto lasciate un like e un commento ti vedete dal canale per non perdere i prossimi video ci vediamo presto con un nuovo video bye bye ciao ciao ciao